Non calibrare prima, calibra dopo, nel senso non dirgli so che può sembrare una cosa di impulso o una cosa un po' strana e ti spiego perché non va fatta questa cosa all'inizio Se sei nuovo qui sei sul canale youtube di approccialla.it un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati e la ragazza è come uno specchio quindi se per te è normale fare una certa cosa è molto probabile che anche per lei diventi normale o che sia normale se per te però quella cosa è strana allora lei riflette questo tuo stato d'animo e quindi anche per lei potrebbe essere strana quindi tu fai ciao scusa scusami sorry do you speak english do you speak italian quello che vuoi ok? parli inglese? ok gli dici quello che ti pare per prendere l'attenzione e poi parti subito con la frase d'apertura in base alle sue reazioni dopo la frase d'apertura accalibri se sei spaventata accalibri sullo spavento se sei imbarazzata accalibri sull'imbarazzo se la vedi che ti dice che cazzo sta succedendo gli dici lo so che è una cosa un po' strana e bla 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 ma quello dopo perché se lo fai prima mettiamo caso che per lei invece è normale quello che stai facendo o che comunque sia non che sia normale ma che abbia una reazione neutra tu gli vai a dire guarda è strano prima ancora che fai la cosa e quindi parti già svantaggiato tu se sei dalla zappa sui piedi da solo quindi questo non lo diciamo prima la calibrazione la facciamo dopo se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portare il diretto a nuove ragazze regolarmente allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita grazie a tutti